Ciao a tutti cari amici, buonasera e bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Ho già preparato questi due mazzetti per la nostra canalizzazione serale. Allora, la variante 1 con il simbolino arancione, la variante 2 con il simbolino blu. Io vi lascio un attimo e poi partiamo subito con la variante arancione. Allora, vi ricordo che se non vi è bastato il video potete stoppare e scegliere con calma. Metto qui il simbolino. Andiamo come al solito a vedere gli oracoli del vorrei dirti che e poi i sindi di accali. Quindi, apriamo la stesa per la variante numero 1. Vediamo questa sera che cosa abbiamo qui. Allora, qua dice Dipendenza reciproca. Situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale. Potrebbe essere la persona giusta. Hai già incontrato il partner che cerchi. Attrazione. Attrai amore romantico godendo appieno di questo momento. Relazioni delle vite passate. Vi siete conosciuti in passato. Fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Allora, che cosa sente? Cosa prova questa persona? È un uomo o una donna che sicuramente provano una forte attrazione. Quindi è una persona che vi desidera moltissimo. Vi pensa con sensualità, anche con erotismo. È un uomo che ritiene che siate la persona giusta. Vi vuole vicine. Vorrebbe anche toccarvi se ancora non l'ha fatto. E pensa che siate la persona ideale. Vorrebbe quindi avere un rapporto stabile e importante con voi. Qui abbiamo comunque un gentiluomo. Una persona che probabilmente desidera anche dei figli per alcuni di voi. O quantomeno probabilmente sa che li desiderate voi. È una persona che si sta atteggiando a voi come un corteggiatore. Come un uomo galante. O comunque ha intenzione di farlo. Nella sua testa c'è proprio il corteggiamento. Il venire da voi. Il comportarsi in modo dolce. In modo per conquistarvi. Insomma. Sente una forte dipendenza nei vostri confronti. Quindi questa persona non può stare senza di voi. Gli mancate continuamente. Vi cerca ovunque con lo sguardo. Vi desidera. Vi pensa. E pensa a quello che c'è stato tra di voi. Quindi in un certo modo sta attendendo degli sviluppi questa persona. C'è da dire che qua purtroppo per alcuni di voi. Se sapete che questa persona ha una relazione ufficiale. Potrebbero esserci dei blocchi. Cioè questa persona è ferma. Si blocca perché c'è una relazione ufficiale. Che riguarda il passato. E quindi l'educazione. Il modo che è stato insegnato. Cioè ovviamente di non tradire la compagna. Lo blocca. Lo trattiene. Se sapete invece che questa persona non ha una relazione ufficiale. Ma è assolutamente single. Attenzione perché questa persona potrebbe avere dei problemi. O per esempio con delle relazioni che l'hanno ferito. E quindi non sa come superare. Fa fatica di innamorarsi. Fa fatica, ha paura di fidarsi delle altre persone. E quindi si è distaccata questa persona. O ha intenzione di distaccarsi. Perché l'educazione è stato insegnato così. Cioè se non sei sicuro di amare una persona. Tu non illudere l'altra persona. Quindi potrebbe essersi una situazione del passato. Che l'ha ferito e fatica a venire verso di voi con serenità, con tranquillità. Per altri invece questa relazione del passato potrebbe riguardarmi la presenza di figli. Su matrimoni con ex mogli. E il pensiero di portare una nuova persona all'interno, diciamo, della famiglia. Magari farvi conoscere il figlio o i figli. Quindi probabilmente gli crea dei pensieri, delle perplessità, delle turbe. Ecco, questo è un po' quello che emerge. Vediamo che cosa vi vuole dire. È uscito subito. Ho bisogno delle tue attenzioni. E questa persona è molto attratta. Ti sogno. Ti sento distante. Qua escono proprio. Ti ho mentito. Per alcuni probabilmente vi sta nascondendo questa situazione. Ho anche un rapporto ufficiale. C'è una terza persona che disturba il rapporto. Ti controllo sui social. Guardate un po' cosa ho appena detto. Che c'è un'altra relazione. C'è una terza persona che disturba il rapporto. Vediamo un po' che segni zodiacali abbiamo. Per coloro che hanno scelto la variante arancione. I segni zodiacali. Qua abbiamo l'ariete. La vergine. I segni di fuoco. Quindi ariete è riconfermato. Abbiamo il leone e anche il sagittario. Andiamo a prendere altri due segni. I segni di acqua. Quindi cancro, scorpione e pesci. E abbiamo anche il capricorno. Quindi variante 2. Mi raccomando. Ditemi nei commenti se la Cesar è risuonato con voi. Quindi se sentite che vi appartiene. Vi ricordo che se mi volete contattare lo potete fare via whatsapp e via mail. Trovate tutto in descrizione sul video. Io vi mando un abbraccio grandissimo. Le pappere. È bello della diretta. E vi auguro una buona serata. Mettete un like. Iscrivetevi al canale. E attivate la campanellina. Così vi arrivano tutte le notifiche. Passo adesso alla variante numero 2. Quindi coloro che hanno scelto il colore blu. Eccoci qua. Per coloro che hanno scelto la variante blu che metto qui. Andiamo a vedere subito la nostra stesa. Allora cosa abbiamo questa sera? Qui abbiamo una persona che vi pensa con delle intenzioni estremamente serie. Abbiamo fidanzamento. La tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Quindi questa persona desidera avere un fidanzamento. O comunque un'evoluzione all'interno del rapporto. Chiaramente se siete fidanzati magari vuole andare a convivere o vuole sposarvi. Se vi state frequentando vuole diventare magari mettersi insieme. È una piccola evoluzione all'interno del rapporto. Quest'uomo lo sogna, lo desidera. Quello che sente perché probabilmente pensa che sia della persona giusta con la quale condividere la vita. È in centro alla stesa. Alla stesa quindi è estremamente importante per lui questo. Vedo che quest'uomo sta anche riflettendo su una situazione che o è già confinita con un'altra persona oppure è ancora in essere ma ha intenzione di lasciarle indietro. Perché qua abbiamo lascia andare il tuo ex, è tempo di ripulire la tua energia. Quindi o ha chiuso una situazione però in un certo qual modo sta ancora soffrendo ancora la pesantezza della relazione precedente. O è ancora in relazione però non sta più bene e vuole, ha intenzione di lasciare l'altra persona. Quest'uomo ha fiducia nel futuro nonostante la presenza diciamo della relazione passata o in essere che non funziona e che ha bisogno di lasciare andare. Qua mi esce la carta di fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia quindi è una persona che vi desidera, vi vuole al proprio fianco e spera appunto di riuscire ad ottenere quello che vuole. Qua ha intenzione di flirtare con voi, di corteggiarvi, di provocarvi quindi probabilmente avete sicuramente occasione di vedervi. Qua abbiamo il flirt, trasmetti la tua gioia e energia agli altri e fai attenzione alle bandiere rosse, ci sono segnali che ti mettono in guardia. Quindi questa persona sta anche riflettendo probabilmente sul fatto che qui c'è qualcosa che non va, sicuramente riguarda la sua vita. Perché se questa persona è ancora impegnata però ha il desiderio di avere un fidanzamento con voi, di aumentare il livello della vostra conoscenza, di flirtare, naturalmente c'è qualcosa che non funziona nel rapporto ufficiale o nel rapporto, nella situazione vecchia se questa persona ha appena chiuso. Quindi in ogni caso c'è un pensare ai segnali di allarme ma anche di fatto nella vostra relazione perché è una persona che sta riflettendo per non ricadere in questa condizione. Quindi segnali di allarme, sta guardando cosa c'è che va tra di voi, cosa non va, il vostro carattere, la vostra compatibilità. Andiamo a vedere che cosa vi dice questa persona. Per coloro che hanno scelto la variante blu, mi sto innamorando di te. Per coloro che hanno scelto la variante blu, ai ai ai, scusate che ho caduto la carta. Non riesco a lasciarti andare. Quindi per qualcuno. Ti ho nascosto chi sono veramente. Voglio un bambino con te. Il fidanzamento potrebbe anche volere un aumento di impegno. Voglio stringerti tra le mie braccia. Ho paura di soffrire nuovamente e questo l'avevamo già visto con la carta di ripulire le energie. Quindi mi sto innamorando di te, non riesco a lasciarti andare. Ti ho nascosto chi sono veramente. Voglio un bambino con te. Voglio stringerti tra le mie braccia. Molto bella questa sesa. Andiamo un po' a vedere qui. Il senso di Akali per la variante blu. Il leone. I gemelli. Il toro. La vergine. Abbiamo i segni di fuoco. Quindi il leone è riconfermato. Poi abbiamo il sagittario e anche la riete. Va bene. Variante 2. Vi ringrazio per aver seguito il video. Vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina come sempre. Commentatemi. Ditemi se la sesa ha risuonato con voi. Per contattarmi per un consulto privato, per delle info, lo potete fare via WhatsApp al 371-636-0228. Il numero che trovate in descrizione nel video. Ma lo potete fare eventualmente anche via mail a tarot-gmail.com Io vi mando un abbraccio grossissimo e vi aspetto con i prossimi interattivi. Vi mando un abbraccio grossissimo e vi aspetto con i prossimi interattivi.